telespettatori buongiorno e benvenuti al nuovo fura channel di oggi quest'oggi abbiamo una new entry un'autrice la prima autrice del fura channel che è l'ex operatrice cinzia l'ho promossa abbiamo la nuova operatrice patrizia ciao brava allora il fura channel di oggi che ha scritto appunto la nostra cara cinzia si intitola domanda il full micotone per fura channel vediamo che cosa ha preparato perché io non le ho neanche le vero vero vai allora qual è il tuo più grande desiderio era buono siamo normale un desiderio trovare una serenità stabile se dovessi scegliere un solo personaggio di fantasie da incontrare chi sceglieresti c'è il giorno Chobin mai 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 poi strofa o ritornello? eh ritornello sei una che perdona? spesso ma non sempre nella vita hai più tradito o sei più stata tradita? nessuna dei due a metà? no nessuna dei due non sono stata tradita praticamente mai in amore, che io sappia, dalle amicizie, quasi mai, né tantomeno tradita. Allora, peratrice, non ciarlare. Esatto. Ok, se stessi per partire per un viaggio interplanetario potessi fare una sola telefonata, chi chiameresti? Mamma, chi vuoi che chiami? Mammina, sto partendo per Nettuno, aiuto! Ineattibile! Ma passeresti anche dal pianeta dei brocioni? Ovviamente sì, assieme a Maki. Poi, cosa vorresti che dicesse la gente di te? Che sono un essere umano assolutamente perfetto. E invece, cosa dice la gente di te? Sono pazza, per lo più. Qual è la tua qualità migliore? La mia qualità migliore direi che sono socievole. Per fortuna non si vedono le facce, telespettatori. Allora, il tuo difetto peggiore? Non sono socievole. Ci penso dopo. Non sono socievole. Non sono socievole. Non esci mai senza? La borsa, con tutto quello che c'è dentro. Poi, cosa non manca mai nella tua dispensa? Ma direi la uova, effettivamente. Cibo preferito? Escluse intolleranze. Escluse intolleranze sushi. Allora, una cosa da fare e o persona e o animale che sa renderti felice quando sei nera? Ma chi? Che domanda! Dolce o salato? Salato. Musica live o sparata in cuffia? M'ho sparata in cuffia tutta la vita. C'è un sogno ricorrente? Non è proprio un sogno. Lo faccio in dormiveglia ed è una persona minacciosa in casa. Se fossi un personaggio dei Simpson, chi saresti? Te le spalla a Bob. Ci resta da sapere chi è Bart. No, scherzo. Si può non rispondere. Se fossi un personaggio storico, chi saresti? Maria Antonietta quando dice se non hanno il pane, dategli le brioche. Vero, vero. Io approvo. Qual era il tuo cartone animato cult? Da piccola? Sì. Candy Candy. Brutta storia. Odiosa. Fino a quale data è pianificata la tua agenda? No, è pianificata di mese in mese. Però ho impegni anche a giugno. Cos'è che ti conquista nelle persone? La sincerità, credo, sì. I tre artisti musicali che ti hanno segnato. Vabbè, Marilyn Manson, i new kids on the block. Vabbè, il primo amore non si scorda mai. Poi, 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 poi... Buon, non lo so. Il terzo? È brillo a video. Perché è brillo a video? Perché mai? Vabbè, il terzo lasciamolo. Lasciamolo che non mi viene. Qua le domande sono tante, bisogna fare in pressa, in pressa. Quanto siamo? È sorpresa. Non ti preoccupare. Va bene. Qualcuno che stimi in questo momento? La fatti che mi sta riprendendo. Mi fanno male le braccia, ragazzi. Non io che ho inventato queste fantastiche domande. Notiamo, telespettatori. Allora... Tu non sei in paresi da dieci minuti? Sì, 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 ma perderò ancora tempo a creare. Per il Fura Channel. Allora, da Hitler a Gandhi si può fare. Cosa ti senti di consigliare ai telespettatori che vogliono intraprendere questo fantastico percorso? Scusa, operatrice... No, operatrice. Autrice. Allora, i telespettatori non... Bello, il classico. Intanto ci suonano. I telespettatori non sanno cosa vuol dire questa frase. Infatti spiegaglielo. Allora, siccome soprattutto in ufficio, negli anni passati ho dimostrato di essere una persona abbastanza stressata, nevrotica, pesante e anche un tantinello cattiva e stronza. E ho fatto un cammino personale di crescita tale per cui adesso invece sono migliorata molto. Autrice Cinzia dice che io sono passata da Hitler a Gandhi. E quindi che cosa devo... Cosa ti senti di consigliare ai telespettatori che vogliono intraprendere questo fantastico percorso? Allora, di leggere tanti libri di crescita personale, frequentare qualche posto dove si facciano delle attività di questo genere, che sia yoga, meditazione, quello che vi pare. Insomma, cercate dentro di voi la pura essenza della vostra essenza. Ok, saltiamo un sacco di domande perché siamo quasi fuori tempo. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Quando ti hanno detto che eri intollerante al sushi. No, no. Io lo so, ma non è diffondibile questa cosa. Dopo me. Poi, in questo momento della tua vita ti definiresti felice? Abbastanza, sì. Se fosse un frutto quale saresti? Direi una pesca, noce. Se fosse un colore quale saresti? No, una fragola. Un colore è rosa. Sapevo. Si vede, no? Abbinato con nero. Abbinato con nero. Cosa vorresti migliorare di te? Smettere di avere paure immotivate, create dalla mia testa. Dici la cosa che dicono di te che ti fa più arrabbiare. Trent'anni buttati nel cesso e o allora quando è che fai famiglia e o ma come cazzo ti vesti? Qual è il più bel ricordo che hai? Facchio, cioè, non si può fare queste domande così in velocità. Quindi quanto più bello che ho? O il primo bello che ti viene in mente? Vabbè, il primo bello che mi viene in mente è un tramonto sul mare mentre ascoltavo la musica. Vediamo il camion. Sì, no? Telespettatori, un avvertimento. Sono le tre domande, le prossime tre domande le capirete solo se siete fan di The Big Bang Theory. Secondo te, cosa significa per davvero Bazinga? Secondo me niente. Secondo me è qualcosa tipo Yatta. Adesso, cantaci Soft Kitty. Giusto. Soft Kitty, warm Kitty, little ball of fur. Soft Kitty, warm Kitty fur. Puff, puff, puff. Finiamo con un saluto agli Umpa Lumpa della Scienza. Ciao Umpa Lumpa della Scienza! E ciao telespettatori! Speriamo che vi piacciano queste fantastiche domande dell'autrice Cinzia. Ciao!